Sino dato Gesù Cristo Cari bambini, tutti noi dobbiamo fare una scelta. Siamo stati creati per decidere. Decidere se vogliamo andare su oppure andare giù. Nessuno rimane a metà strada. O se va su come un palone o se va giù come un sasso, una pietra, un macigno. Allora, vi voglio oggi parlare delle sette ali che ci portano lassù, cioè in paradiso, e dei sette sassi o macigni che ci trascinano giù, che ci portano giù all'inferno. Allora, le sette ali che ci portano lassù sono le sette virtù principali, la fede, la speranza e la carità, che sono le virtù teologali, perché sono virtù, cioè un modo di vivere, di comportarsi, che ci uniscono direttamente a Dio. L'oggetto delle virtù teologali è Dio. E poi ci sono quattro virtù morali, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Queste virtù teologali e morali o cardinali, queste sette virtù sono sette ali che ci aiutano a andare su in paradiso. Invece ci sono i sette sassi che sono macigni, che sono pezzi, che ci trascinano all'inferno e sono i sette vizi capitali. la superbia, l'invidia, l'ira, l'avarizia, la lussuria, l'acidia e la golla. che sono vizi, cioè sono anche un modo di vivere. È un modo abituale, che abitualmente si lascia trascinare dalla gola, dall'acidia, dalla pigrizia, dalla superbia, dall'ira. è come se attaccassi ai piedi dei sassi che lo portano sempre su. Voi riusciti a camminare con peso ai piedi destro e ai piedi sinistro? È molto difficile. Così i vizi capitali sono dei pesi che attacchiamo alla nostra anima e questi pesi ci trascinano verso la danazione dell'inferno. E le persone che da piccolo già, da bambino, cominciano a praticare il vizio piuttosto che la virtù, si trovano in una via scivolosa verso la danazione. San Giovanni Bosco, il grande educatore della gioventù, diceva che la sorte, l'eternità di una persona, si decide nei primi anni della sua vita, perché già nei primi anni della sua vita c'è l'indirizzo verso la virtù oppure la deviazione verso i vizi. Un bambino già da piccolo comincia a capire se la sua vita è solo un passaggio verso l'eternità e che quello che serve sono i beni dell'anima, dello spirito, la preghiera, nostro Signore, oppure tutto è materiale, quello che serve è godere e vivere bene su questa vita. Ma questo, e questo già viene trasmesso nei primi anni, perché? Perché è frutto già dell'educazione, della mentalità dei propri genitori che trasmettono questo ai figli, anche prima che i figli cominciano a ragionare. Perché? Perché i bambini cominciano a ragionare, a pensare sconforme, secondo quello che trovano a casa e perciò il futuro di quel bambino si decide nei primi anni della sua vita e riceve questo quasi come una eredità che viene dai suoi genitori, dai suoi nonni, da ciò che lo circonda. Allora, cari bambini, se vogliamo andare in paradiso e siamo state create per quello, per andare in paradiso, dobbiamo praticare le sette virtù principali, dobbiamo fare sviluppare nella nostra anima queste ali, la speranza. Io credo in Dio. Dovete imparare a memoria l'atto di speranza, l'atto di fede, perdone, l'atto di fede. Io credo, eh? Credo nella Santissima Trinità, credo in Gesù Cristo, credo nella vita eterna, l'atto, imparare bene l'atto di fede, imparare l'atto di speranza e di carità, perché un cattolico è l'uomo di fede, di speranza e di carità. Se vogliamo capire chi è il cattolico, dobbiamo capire cos'era la fede, la speranza e la carità. E poi praticare la virtù della prudenza. Una persona è prudente quando sa scegliere i mezzi più adeguati ad arrivare al fine, il proprio fine. Per esempio, quando il vostro papà guida la macchina, è una persona prudente, quando sa fare le manovre necessarie, quando fa bene le curve, per arrivare, arrivare alla casa della nonna, per esempio. Se invece va fuori strada, allora non è prudente. Se fa un sorpasso pericoloso, con quel pericolo di trovare qualcuno che viene nella sua direzione, è mancato di prudenza. Allora, prudenza non vuol dire che lui deve andare a una velocità tale da quasi non muoversi, non sarebbe neanche prudente. E nemmeno andare a 200 km per ora non sarebbe prudente. Allora, la prudenza nella nostra vita, scegliere i mezzi adeguati per arrivare in paradiso. Per esempio, se io non prego mai, non sono prudente, perché non domando l'aiuto del Signore. Quindi la preghiera, saper quando pregare e come pregare, fa parte della prudenza. Poi, la giustizia, che vuol dire dare a ciascuno il suo, il dovuto, la temperanza, che è la misura in tutto quello che facciamo, e la fortezza. che è la capacità di resistere anche ai pericoli di morte, essere disposto anche a morire, ma non tradire il nostro Signore. Sono le sette ali che ci portano in paradiso. E un bambino che fa spesso la comunione e ricevere Gesù Cristo nel cuore, ogni volta che riceve il nostro Signore nel cuore, aumenta la virtù della fede, della speranza e della carità, e diventa un bambino prudente, giusto, temperante e forte. Allora, per la comunione è sicuramente uno dei mezzi più efficaci per praticare la virtù, anche perché viene al nostro cuore Gesù stesso, che è l'autore della grazia, ma è anche il modello di tutte le virtù. Perciò, cari bambini, per andare in cielo, dobbiamo fare spesso la comunione e farla bene. Invece, chi non fa la comunione, chi non prega mai, cosa succederà? Succederà che attaccherà, se legherà al cuolo questi sette pesi, macigni, che sono i vizi capitali che trascineranno l'anima alla dannazione. Nessuno va in paradiso così di un colpo, come nessuno va all'inferno così di un colpo. E presuppone chi va all'inferno che prima ha vissuto nel vizio, nel peccato e quindi piano piano è stato trascinato alla dannazione. E anche chi va in paradiso ha praticato la virtù per molto tempo per arrivare in paradiso. E la nostra vita è questo tempo che il Signore ci dà per praticare la virtù e evitare i vizi. Chiediamo alla Madonna, alla Vergine Santissima la grazia di salire sempre su con le ali delle virtù se l'ho dato Gesù Cristo. la grazia di salire di salire Grazie a tutti.